perfetto qui starò benissimo mangerò qualcosa e poi mi farò una bella dormita grande sorpresa che stanno sembra che non sarò io a guidare aspettami coraggio andiamo a vedere dov'è finita la palla ciao frank hai sbagliato luogo ho preso una storta ieri stavo tagliando i cespugli e sono caduto dalla scala ho capito allora è lei che li ha tagliati con quelle forme curiose non sono stato io ho smesso quando mi sono fatto male deve essere venuto qualcuno durante la notte e li ha tagliati in quel modo buffo non so chi sia stato